se la sentite la musica che va la musica che sale è quella di star citizen inizio io che ne pensi è un'ottima idea però non devi morire ma sono un po sottotono perché sei stanco stanco sta per finire il periodo lavorativo tra poco si andrà in ferie tre tete non lo so io c'ho ancora buona madonna ci ho buttato sopra sei morto quella era una roba di alta musica la musica non posso non posso non posso non posso volo non lo faccio solo perché non funziona quella cosa secondo me sei tu che non funziona no maria maddalena perché io salto la perché salto perché bentornati quindi super user server 2 sul gioco poi c'è ben arrivati il gioco che ormai sono 40 volte che facciamo sempre lo stesso punto quindi sarei pure rotti i coglioni lo ben immagino non so come fate a vedere i replay vabbè perché loro li vedono tagliati mica vedono tutta sta ma nel caso iscrivetevi se proprio volete non si sa mai iscrivetevi pure al primo canale ragazzi perché sul primo canale ogni settimana contenuti di altissima qualità in cui dimostriamo una volta per tutte che per giocare ai videogiochi non c'è bisogno di averle mai guardate quanto è concentrato sinergo ah sì più che concentrato sono basito f4 no sono semplicemente preso preso cazzo ho preso non lo so dove fai il weekend dove cazzo ho preso invece è sempre questa parte che è molto bella eh qua devo riuscire a beccare il salvataggio ragazzi se non becco il salvataggio qui tocca ripartire dall'inizio no no ma tu sei bravo in questa parte salvo che adesso non muoia vai vai bravo ci ha pensato anche più del dovuto ma ce l'ha fatta ce l'ha fatta comunque c'è da dire che ogni tanto il salto con l'hitbox va un poco a cacate eh però ma non fa niente cioè cacate sull'arno intendi cacate sull'arno esiste no nel senso proprio dovete cacare sull'arno quando li trovate perché è importante non inguinare i fiumi e invece fertilizzarli tu sai che il limo del nilo si è praticamente merda però fa ma questa cosa non è giusta eh questa cosa va beh va beh vai molto bravo sinergo nazionale salta bravo bene allora attenzione qui dobbiamo salvare il salvabile vai ci puoi perché non ci provi manco più dai quasi quasi dovevi insistere no ragazzi quella parte è veramente puttana fai occhio fai occhio fai occhio piano perché noi parlavamo partivamo da oh là c'è un altro modo per arrivare dall'altro lato si può arrivare just jump ok vai spara 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 buono non i polli non i polli bravo bravo non negli occhi non negli occhi non negli occhi salta 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 c'è un cavallo lì sopra vabbè è normale è un riferimento a skyrim è un riferimento a skyrim questo ci conosce sto sviluppato guarda dove l'ha messo il cavallo ma non è sto oh e oh sotto sta sotto tendo tendo perché questo è fondamentale questo sei preso porca puttana di una scrofa puttana perché con pelli io perché ha fatto quella cosa o che ne so oggi non mi sento troppo preciso chi la dura la vince come si dice guarda che hanno fatto il materiale di sto di sto legno bagnato che ti dà ancora di più la sensazione che scivoli come è il ragdoll e triangolo bene ok questa parte è più mia che tua sì io qua ho giocato pochissimo io ti ci faccio solo arrivare ma poi sei te che sei allora qua la situazione era la seguente io secondo me io posso buttare di velocizzare un po questo sì ma io posso buttarmi qua sotto di lì evitando quella parte lì che ne pensi muori però non la trovo dove era il save da questa parte mi sa chiaramente sì allora io non mi fido di quello che dice sa in ergo eh però c'ha la mamma un po zocco no eh tu salti sul coso veloce ma tu salti quello che cazzo voglio perché non ti va di perdere dieci secondi a farlo girare ma semplicemente si poteva fare l'ho fatto diverse volte diverse volte sei caduto dici che no? no vabbè ti commento vabbè vabbè buono buono cioè ma tu ti rendi conto che io che tempo ho avuto per prenderlo in faccia a quella maniera? bravo complimenti opla un trago del save qui allora quello che ti dicevo io dovrei provare a salire da lì salendo da lì si può quindi quello che farò adesso no fatti i cazzi tuoi si può si può fare ma guarda che è facile supera quella parte a sto punto se hai capito come prendere l'altro save prendi direttamente l'altro save raga forza ormai l'abbiamo masterato sto giochetto therma ok vai vai si si è libero è libero BASZOOO no 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 ma te non sei ci vuoi provare ma non è preponderante che tu ce la faccio sfaralo Preso Preso, madonna Prendilo bene, lo prendi a papà Prendilo bene Oh oh Voi devi correre come un pazzo Si stavo pensando che qua si può fare questo E poi muori Però volevo provarlo Ma sei scemo No, volevo provarlo Ma perché a me fa queste cose? Mi stocca più un cazzo E' rimesso in piedi Bellissimo Bellissimo Ma voi è addorzione Mi sono arrivati appertutto Ma guarda Ma ha fatto il pallone Devo prenderlo per te Cazzo hai fatto Sì Ora vallo a prendere L'ho preso per te Fa morire No, questo è imbarazzo Bravo Ok Ma dove cazzo? Occhio, occhio Come ci vai là? Perché quello è puttana Hai visto il tuo movimento? Bene, l'ho visto Ok, se Nicola muore ragazzi Ricomincia al massimo da qua Che regno il tattico ragazzi Ok, ci siamo E mo' vedrete Redez Che cerca di stendere sul coso Per un po' Ok, perfetto Perfetto Spara qualcosa qua? Sì Quello Che pallone No Sono svenuto L'hai preso L'hai preso L'ho fatto Che culo di no Ma senza senso però Ma senza senso Posso dire senza senso È successo tutto Tutto senza senso No No Spara, spara, spara Spara adesso Quando è Bella così Ti doveri ridollare Però non fa niente Ti salvo la vita Il sebe Il sebe Preso Quindi si ricomincia Da sopra Questa piattaforma Ho capito Questo zumba Hai capito che devo fare? Madon Madon Volo Roddo No Ho paura che muoio Cazzo Madonna Rimesso pure in piedi Senti Adesso Con calma Aspetta Devo vedere un attimino Se Ehi Ehi Eh, piglia tutto Quella cosa Alla, vero? Sì Qui no Tom Ah, perché Ma ti è andata di culo Che l'itbox è giusta Ma se no Sarebbe pollia Merda Complicato, eh? È un bordello Dove hai corda? Stiamo a fare così Ok, qua non è difficile Devi solo saltare dopo Dopo di questi Aspetta Ora Mario Mario San Crispino Mario Ma che è morto Mario Io ho saltato dopo di quelli Porco 2, Mario Ho saltato Manneggia Cristina D'Avena Manneggia Cristina D'Avena In buon certo Questa parte tu Vai, vai La master Non è un problema Mocate Mocate Oh, la smetti Porca di quella puttana Porti sfiga, compà Preciso, preciso Bra Sì Ma perché? In nome di Dio Si è caduto Perché? Comunque hanno cambiato qualcosa In quel punto Non hanno cambiato niente Eh, siamo caduti tutte e due Ehi Tu devi saltare Calcolando il punto in cui Vedi questo, arriva Ma se lo vuoi evitare Devi saltare pensando a prenderlo E invece lo manchi di poco No, sii Bravo Sì, ho capito come si fa Come? Al lato? No, devi cliccare Devi Non hai capito un cazzo? Sì, sì, sì Devi aspettare un secondo Allora, muore Ti butti di sotto e lo rifai Lo rifaccio dopo No, no, no Devi farlo subito Perché finché hai la memoria fresca No, no, ce l'ho, ce l'ho Devi averlo in memoria Ce l'ho, fidati Muore la prossima volta Ce l'ho, fidati Quindi qual è la soluzione? Gliela farò Un secondo dopo No, non è quello Fidati Non è quello Fidati Ho capito come si fa Abbiamo capito Abbiamo il mastering delle piazzaforme ormai Infatti, mo' sta parte ci arrivi in un attimo Boh Posto Eh Ma sei scemo? No, qua non si muove Sei scemo nell'anima? È vero Ok Bravo, bravo Così, così, così Non perdere tempo Vai dritto, dritto, dritto Non ci pensare Non ci pensare a quello Tanto non Giustamente ti saresti ammazzato Prendo quello dopo Sì, sì, quello dopo è molto più tranquillo Questa gallina preventiva Potrebbe avere il suo senso No Sì, no 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 Ha compulso Fai, 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 fai Capisci la dinamica della situazione? Eh, ci si crei Qua c'è qualcosa che mi riava Ragazzi, fermi tutti Ci vediamo al prossimo gameplay Ce la posso fare? Guarda, qua c'è il save Lì c'è il save Ce la posso fare Allora, dovrei salire su... No Ah, sì, sì No Ci vediamo la prossima volta Se ci arriviamo A presto A presto A presto A presto Grazie.